Come? Come dici? Binario Binario? Treno locale prevenito da Taranto in arrivo in primo binario Treno locale prevenito da Napoli in arrivo in secondo binario Treno locale prevenito da Brindisi in arrivo in quarto binario Le stazioni Le stazioni Le stazioni Da Taranto, Metaponto, Perantino, Crassano, Potenza, Battipaglia, Salerno, Napoli e Roma Da Roma, Napoli, Salerno, Battipaglia, Potenza, Crassano, Perantino, Metaponto, Taranto Bernalda, lì Bernalda Bernalda si trova a pochi chilometri dalla piana in mezzo al ponzo La 407 Basentana è formata a due corse, Orsi Italia e Corso Umberto Al centro c'è la piazza Previscita, la chiesa di San D'Antonio, il municipio L'ufficio dei Bici Urbani, la banca di Napoli E il ristorante adaggiano la camera a Corso Umberto e a Bernalda Vichio Blandone Capo da Bruniano